Ben ragazzi e ben tornati qui sul mio canale, incredibile, siamo di nuovo sul GTA ragazzi Speriamo di trovarlo subito ragazzi perché è in fondo il mare, non può niente Speriamo soprattutto di diventare squali, non cazzo di pesciolini Perché se può diventare pure, qual era, delfino, squalo, orco, non mi ricordo, spero di diventare squalo Tutto tranne il pesciolino ragazzi, pesciolino triste Co2 ragazzi, ragazzi, vabbè io sono stronzo pure, voi fermatevi Oh ragazzi sono stronzo però, ma perché non da sbatti? Quanto cazzo, non mi sono già rotto, voglio diventare squalo, orca, orca sarebbe Fantasmagoricamente, incredibilmente, parole incredibili, eccezionali, eccezionali Ho sbagliato streida, ho sbagliato streida porco 2 Fa questo qua rosso e il lampione Ma, proviamo Sì, eccolo Il peyote, signoriamo cosa diventiamo, ti prego Vediamo Mamma mia ragazzi Sono un'orca Dam 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 Mamma mia ragazzi Sono una fottuta orca Uno squadro la orca comunque diventava bene Ragazzi anche l'orca è cattivissima eh Cioè guardate qua Cattivissima eh Mamma mia Devo andare più a riva Ragazzi non ci sta nessuno Perché? Ragazzi non ci sta nessuno Ragazzi però non ci sta nessuno che fa il bagno Ma perché? Ho preso la giornata triste Oh questa Attaccala What? Cosa? Cosa? Si è mancato raga Si è mancato tutto E allora quella lì che ci hai provato a mangiarla Si è mancata e volata Ok ci abbiamo fatto arrivare a riva Più o meno Dai io neanche è alta 10 metri qua Ok ragazzi questo video sarà Orca Simulator Un video come sempre Abbastanza breve però Io spero che più o meno questi mini video vi piacciono Ricordate sempre Di lasciare Un mi piace E un commento Di iscrivervi al canale Se non l'avete fatto ovviamente Vi invito a iscrivervi al canale E di seguire i social in descrizione Soprattutto Instagram Seguitemi su Instagram Perché lì Sono sempre molto molto attivo Qui Bagliasmatti è tutto Bella Ciao 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 Ciao